La giornata di lunedì purtroppo si apre così come si era chiusa la domenica con un grave incidente lungo le strade della provincia, sempre a Maiano, dove la notte scorsa è stato investito un ciclista ad un centinaio di metri di distanza dal sinistro stradale che ha lasciato un 44 in gravissime condizioni. Erano le 8.30 stamattina quando una Hyundai Atos e una Peugeot 206 sono venute a contatto mentre procedevano in direzione di Fusignano. La Hyundai ha tamponato la Peugeot quando l'auto che precedeva ha iniziato le operazioni per una svolta a sinistra. Dopo lo scontro entrambe le vetture sono precipitate nel fosso al lato della careggiata. Tre le persone rimaste coinvolte ferite, la più grave una donna che insieme ad un uomo viaggiava sulla Peugeot. Soccorsa dal personale del 118 dei Vigili del Fuoco, la donna è stata trasportata con l'elimedica al bufale indice Sena ma le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. Per permettere le operazioni del personale medico la polizia della bassa Romagna ha chiuso la strada al traffico. Poi dopo che l'aria e i feriti sono stati messi in sicurezza via Maiana è tornata ad essere aperta alla circolazione ma solo a senso unico alternato.